Il Vaticano ha chiamato Lucifer il suo occhione che punta al cielo, il suo telescopio megaspaziale, eccetera, sul monte Graham, che era sacro a Iapace. La Santa Sede però dice che è stata una scelta obbligata, poiché si tratta dell'acronimo Large Binocular Telescope Near Infred Utility with Camera and Integral Field Unit for... Ma andassera a f***lo, dai! Siccome c'è stata una protesta fortissima sia delle popolazioni tribale che anche internazionali su questa cosa, il Vaticano ha nominato una sua commissione presieduta da padre Coyon, si chiama veramente così, non è una battuta, che si è autoassolta da ogni ingerenza dichiarando loro che non era terreno sacro. Su questo ti consiglio di vedere, perché vale la pena, un video che si chiama Lucifer contro Apache del canale My Little Crocodile. Perché te lo consiglio? Perché questo canale è uno di quelli che ha portato avanti queste esternazioni in vera conne sul lavoro della Blavatsky, di cui, ripeto, la massa di questa gente non ha mai letto una pagina. Io ho sfidato pubblicamente molte volte la gente a mettersi davanti una telecamera, quei libri davanti, e l'ha fatto anche qualcun altro, non solo io, e sono spariti tutti come la nebbia. Qualcuno ha detto, ah sì, è vero, non l'hanno detto, però in lei c'è la radice della New Age, perché poi la Brayley, che era stata sua discepola, ha fatto questo famoso Lusitrust. Lusitrust è una delle centinaia di organizzazioni, di strutture, che fanno riferimento all'ONU come chairman di tutte queste iniziative. Non è un organismo dell'ONU, come scrivono questi deficienti, ok? È una delle centinaia di espressioni di quel genere. Tra l'altro, quando è stata associata all'ONU, la Brayley era pure morta, quindi riguardi un po'. Allora c'è l'ONU con la torre, con la pietra nera. Allora questi sono satanisti, perché lei adorava Luciferi. Sono una maria di cazzate stratosferiche, vi leggete i libri poi alla fine, cioè non è un problema, no? Li trovate anche in pdf, se non volete spendere i soldi, ok? Quando li leggete vedete che non è così. Ovviamente nessuno attacca chi ha fatto la stanza con la pietra nera, cioè il re di Svezia, col cazzo che lo fanno, va bene? E tutti gli amichetti loro dei vari circoli, no? Quelli, ecco. Quindi, per l'amor di Dio, dopo cento e passa anni, si fanno ancora queste cose, perché? Il problema è sempre quello dell'informazione. Perché se tu prendi i libri, leggi e ti informi e studi, con gente che le cose le sa, vedi che tutte queste sono pregnacce. E allora saltano tutti gli altarini. Poi un altro peccato innominabile, eterno della Blavatschie, che ha combattuto con Garibaldi, a Mentana, ci ha quasi rimesso la vita. Se vedeva l'Italia come è ridotta oggi, stava a casa, eh? Parlamoci chiaro, assolutamente. Penso anche Garibaldi. Però questo è lo sfondo, questo revancismo cattolico di merda, di questi falliti della storia, che cercano ancora di riavere il papare. E se lo possono scordare, anche perché adesso a Roma gli hanno messo qualcuno che lavora per l'altra ditta direttamente, e quindi finiranno nella M puntini puntini, in secola, secolorum, amen. Quindi non ti preoccupare di queste cose. Quando volete conoscere un autore, leggetelo. Anche perché di tutte le centinaia di citazioni a membro di Segugio, come diceva il mio comandante sotto le armi, che fanno della Blavatschie e della Bailey, non trovate mai riferimenti bibliografici. In quale libro l'ha detto? Dov'è che l'ha insegnato? Non c'è, puff. Sì, basta dirlo così, nel web tutti quanti gli vanno dietro la ruota, capito? Quindi, quando vi dovete informare sulle cose, leggete sempre gli originali, ok? Comunque, grazie per le domande. No, a questo punto è d'obbligo un intervento. Sì. Che è una notizia incredibile, cioè... È infatti nota a pochi la presenza di un osservatorio astronomico vaticano, VAT, Vatican Advanced Technology Telescope, sulla sommità del Monte Graham, il monte sacro della tribù Apache, che si è vista in base, per l'ennesima volta, anche dallo stato più piccolo e potente al mondo. Le due stranezze, che saltano subito all'occhio, sono la sua targa inaugurativa, intitolata Giovanni Paolo II, e il nome scelto per l'imponente osservatorio, Lucifer. La Santa Sede, però, dice che è stata una scelta obbligata, poiché si tratta dell'acronimo, Large Binocular Telescope Near Infra, Utility with Camera and Integral Field Unit for Extra Galactic Research. Ma per amore di Dio, ma lasciamo... Sono proprio dei charlatani. Ciò che non toglie che suoni alquanto particolare, come il nome di una struttura vaticana, che studia le stelle e i pianeti lontani, posizionata proprio su un monte sacro, la religione animista degli Apache, in una terra in cui si è sempre discusso sulla veridicità o meno di continui avvistamenti alieni. Non solo. Lucifer? C'è il Vaticano, c'è un telescopio, c'è un telescopio. Attenta che il Monte Graham, pur essendo il più alto della zona, non è assolutamente sufficiente per le osservazioni con i telescopi. È troppo basso. Ma perché quello? Perché sto nome? Eh beh, hai visto, tra colleghi, no? C'è dove è il problema. No, no, dimmi, perché lì, con gli Apache, con quel monte, e perché lui si ferra giustificato con una cosa assurda? Sì, con questa cazzata mostruosa. Perché lì c'è un portale, un canale d'ingresso, e loro vogliono avere contatti di un certo tipo. Cioè? Che canale c'è? Canale portale, portale dimensionale, dove si avvistano queste forze, queste cose. Ma è stato proprio il direttore della specola vaticana a dire che esistono altri mondi, ci sono altri esseri, tutto quanto. Sì, hanno fatto anche il presepe, ricordiamo. Sì, 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 con Etty, cioè siamo tutti, capito? Però perché Lucifer? Ma amore mio, perché quello è il loro direttore dei lavori. Mamma mia. Cioè, sono votati a quell'entità, quindi a chi lo intitolo? A Gesù Cristo? Non credo proprio. Madonna, però. Ecco, questo per far capire come stanno le cose. Questo video dietro le quinte continua nei contenuti per abbonati. Abbonarsi è un modo per aiutare la libreria, grazie del tuo sostegno. E da oggi, con il nuovo pulsante Grazie, potrai aiutarci nei nostri progetti partecipando alla raccolta fondi. Cerca sotto ogni video il pulsante con la scritta. Grazie. Grazie.